Un caro saluto da Franz. Oggi vorrei portarvi i talismani, quindi portarvi questo argomento di approfondimento dove darvi delle definizioni di partenza e poi, perché no, nel tempo proporre anche ulteriori approfondimenti per entrare dentro a questo mondo che è molto creativo, ma che è anche molto interessante come argomento, perché il talismano è lo strumento nelle mani dell'astrologo, lo strumento più pratico e anche più creativo che l'astrologo ha nelle sue mani e che è anche l'oggetto capace di fornire all'astrologo una possibilità di terapia, di guarigione, di azione e di interazione con la sfera celeste al fine di, in qualche modo, utilizzare le nature dei pianeti per facilitare anche la nostra vita. È sicuramente necessario partire da una distinzione elementare, quindi talismano e amuleto. Sono due oggetti diversi. Abbiamo una serie di ricerche, in tal senso, dove si evince che l'amuleto è da sempre stato considerato come un oggetto che possiede in sé una propria natura, ovvero è dotato di un potere insito, cioè interno, mentre il talismano è di per sé un oggetto la cui natura è veicolata tramite l'incisione, per esempio, di un'immagine, ma c'è anche un qualche cosa che ha a che fare con la forma dell'oggetto stesso, da una serie anche di rituali, di procedure. Quindi il talismano è caricato di qualità naturali attraverso una serie di azioni, di ritualità. Il talismano è uno strumento ideato dall'operatore che, imprimendo nature su di esso, attraverso appunto le immagini, la ritualità, la gestualità, uso di candele, incensi, fumigazioni, erbe, e in accordo a certe condizioni delle luci del cielo, teoricamente questo oggetto, portato dal portatore, elargirà un potere occulto e naturale. Allora, se ci rivolgiamo a Giovanni Battista della Porta, 1535-1615, filosofo, alchimista, erudito, lo studioso afferma che esistono immagini che non operano attraverso una virtù naturale. Queste immagini esprimeranno i loro effetti attraverso l'uso di certe ore, del giorno e della notte, di certi tempi celesti, e secondo certi segni. Sta descrivendo della Porta i talismani. Anche della Porta si ricollega chiaramente allo pseudotolomeo, rievocando per esempio celebri aforismi che provengono per esempio dal centiloquio, affermando che le cose e le figure di questo mondo sono sottoposte alle figure e agli aspetti del cielo. Della Porta descrive la natura di queste immagini diversificandoli in base anche alla loro origine. E quindi nel ragionamento che Della Porta fa, egli propone una serie di riflessioni e anche di relazione alle immagini, perché ne esistono effettivamente di diverso tipo. Per esempio, Della Porta dice che le immagini possono essere visibili e immaginabili, e si riferiscono, dice proprio, esplicitamente alle costellazioni. Dice che esistono tuttavia anche immagini inventate, che sono frutto della fantasia, dove si rintracciano figure umane dotate per esempio di una certa gestualità, ovvero quelle che possiamo definire come scene, che rievocano ciò che si intende ottenere come virtù e come proprietà. Dice sempre Della Porta che se desideriamo ottenere per esempio l'amore, incideremo un'immagine di due persone che si abbracciano, che si baciano, ma se vogliamo ottenere l'opposto, ovvero l'odio tra due persone, incideremo due individui che si danno le spalle o che hanno movense minacciose, cruente. Ciò dovrà essere realizzato, dice sempre Della Porta, nell'ora opportuna, nel cielo opportuno, con le stelle, i pianeti più consoni alle virtù che intendiamo imprimere. Afferma poi Della Porta che è possibile ricorrere a dei sigilli, che a differenza delle immagini canoniche hanno in sé qualcosa di misterioso, dice, di esoterico, ma che allo stesso modo avranno facoltà di attirare certe virtù piuttosto che altre. Quindi c'è nella descrizione anche dell'immagine, almeno secondo questo autore Della Porta, Della Porta individua delle immagini, per esempio alcune le ricollega alle costellazioni, quindi alle immagini proprie delle costellazioni, altre immagini le ricollega a delle scene, cioè a delle immagini che ricostruiscono in un certo senso una certa scena, una certa movenza, delle allegorie vere e proprie che intendono esprimere attraverso la loro immagine una certa virtù e una certa natura. Il paradigma su cui si basa la logica dell'arte talismanica è trattato ampiamente in epoca rinascimentale, ma anche medievale, in numerose opere che della magia naturale fanno il loro fondamento. Nei tempi di Della Porta è evidente che i testi di Agrippa, come anche quelli di Fiscino, erano probabilmente veri e propri best-seller del periodo. Si consolida in questo momento l'idea o il concetto di simpatia, che tuttavia è presente da immemore tempo e che ha un suo probabile, anzi logico collegamento all'aristotelismo. Le opere di Fiscino, per esempio, vedi il De Vita, le virtù occulte delle cose inferiori sono sempre sottoposte o disposte dal cielo. Della Porta pare soffermarsi proprio su questa connessione tra alto e basso, rievocando il concetto che lui chiama principio di somiglianza, vera dottrina alla base dello studio delle virtù nonché materia indispensabile per lo studio, per esempio, dell'amicizia e della inimicizia tra pianeti. La simpatia è un concetto molto importante nella magia naturale, ma non solo, perché spiega il meccanismo logico con cui le cose del cielo si possono associare con quelle della Terra. La teoria della simpatia quindi permette di ragionare sui collegamenti tra nature superiori e nature del mondo sublonare. Sottolineo che ho parlato di teoria, non di certezza. Se parliamo di talismani è necessario però disquisire e anche ragionare sul concetto di influsso, è inevitabile farlo. Nozione dominante nelle disquisizioni proprio della magia naturale. Sempre nel De Vita di Ficino, l'idea di influenza è associata a cose naturali ma anche artificiali, cioè alla relazione con lo spirito del mondo. Dello stesso avviso è, per esempio, il De Occulta Filosofia di Cornelio Agrippa, che rimanda a Dio la capacità di elargire le virtù per mezzo dell'anima del mondo. E questo avviene per mezzo sempre delle immagini, nonché anche per mezzo degli spiriti. Gli spiriti intesi da Agrippa sono da intendersi nel solco della filosofia naturale, cioè sono intelligenze dotate di principi e di qualità naturali e con la partecipazione, aggiunge sempre Agrippa, della meccanica celeste e delle sue luci. Tutto cioè interviene nella elargizione delle virtù che saranno quindi dispensate nelle cose del mondo, attirate o inviate sugli oggetti, sulle immagini, in base alla loro intrinseca natura. Ecco che un'immagine di due individui, per esempio, che si baciano e si abbracciano, potrà attrarre più agevolmente le nature, non so, di Venere, o di una stella dotata di natura Venere, caricando l'immagine di quella virtù passionale, passionale, amorevole, sentimentale, che dispenserà nel portatore nature finalizzate ad attrarre l'amore, la buona sorte sentimentale, la concordia, la pace, la sensualità, la bellezza, sempre per via teorica. Nel testo De Subtilitate, 1550, parliamo di Cardano, troviamo un'indicazione dell'autore sull'influsso, dove dice che è un'azione esercitata su di un oggetto o di un corpo per mezzo di vettori incorporei. Possiamo andare da Cardano al Pontano, per esempio, nel De Fortuna. Il Pontano rievoca il concetto di incoazioforme, ovvero gli aspetti o le dinamiche del cielo provocano ed esercitano virtù all'interno della materia. In un certo senso, il cielo e le sue dinamiche sono concepite come attivatori di nature che ritroviamo già nel mondo sublunare. Questa idea di influsso è particolarmente collegata anche alle questioni genetriache. Quindi questi ragionamenti possono anche aiutarci nel comprendere anche l'azione di un talismano, per esempio, su una persona. Gli influssi concepiti nell'astrologia sono quelle virtù naturali che portano, per esempio, una pianta a germinare, a produrre un corpo, un fusto, delle foglie, dei fiori, fino al frutto finale. Cioè tutto concorre per stimolare la pianta ad esprimere il suo destino e il suo fato. Se incorrono le virtù giuste del cielo, tale processo avverrà con armonia e secondo un ordine naturale. Altrimenti, se intervengono virtù sbagliate, la pianta sarà deviata, marcirà, non produrrà fiori o produrrà frutti amari, vuoti, privi di nutrimento. E quindi questo ci fa capire che il talismano produrrà una serie di nature, secondo la teoria di quest'arte, in base alla virtù, quindi al mescolamento delle virtù celesti, dove quindi è la saggezza, ma specialmente la conoscenza dell'astrologo, a fare la differenza. Quindi non basta conoscere le analogie, ma bisogna anche saper gestire il cielo dal punto di vista astronomico, perché sicuramente le condizioni astronomiche fanno la differenza. Per concepire la natura di un talismano possiamo paragonare questo oggetto anche ad una realtà individuale e genetriaca. Ognuno di noi nasce, per esempio, sotto un cielo preciso dotato di figure, di immagini, di disposizioni, di condizioni accidentali ed essenziali. Quindi il nostro essere, nella sua totalità, almeno secondo il metodo astrologico, per esempio anche la forma del nostro corpo, le diverse nature individuali, le inclinazioni della mente, dell'animo, le qualità delle opere, il modo in cui amiamo, come ci relazioniamo alle diverse questioni della vita, nel metodo e paradigma astrologico sono descritte dalla carta di nascita. Quindi noi siamo il risultato di diverse variabili naturali che eserciteranno nel nostro essere determinate specificità. Quindi siamo, in un certo senso, questa è una mia idea, una sorta di talismano vivente. Quindi noi siamo un corpo che è nato sotto diverse immagini e disposizioni e quindi esprimeremo nature in simpatia, in sintonia al cielo di nascita. Quindi noi avremo delle virtù migliori di altre che quindi andremo ad esprimere meglio rispetto ad altre cose, ad altre virtù che corrompono il nostro corpo o ci possono dare, diciamo così, degli squilibri per essere, insomma, brevi. Il talismano anche è la stessa cosa, quindi il talismano è una creatura vivente, è un ente in un certo senso vivente perché viene creato dalle mani dell'astrologo, viene creato con una ritualità, con una serie di gestualità e quello che andremo ad ottenere è in effetti un oggetto che ha, per esempio, la sua carta di nascita e quindi esprimerà le sue virtù anche in base ai decreti di questa carta celeste che in qualche modo rappresenta la carta di identità del talismano. Quindi il talismano è in effetti una creatura vivente, un oggetto che nasce in un momento preciso, ha una sua carta di nascita che dipenderanno ovviamente dalle scelte del creatore e sarà caricato da una serie di virtù e nature ed eserciterà sul portatore le sue influenze cercando un accordo con le qualità proprie dell'individuo, promuovendo quindi certe nature e inibendone altre. Questo ci spiega anche perché abbiamo i numerosi testi tra cui vi cito il centiloquio degli aforismi delle indicazioni che ci fanno capire che anche nella produzione di un talismano questo oggetto deve essere creato in sintonia e nel rispetto dei significatori della natività. Cioè un talismano deve essere profondamente collegato con il soggetto finale. Riprendendo sempre le opere dell'alchimista della porta l'autore fa notare l'esistenza di due tipi di sigilli alcuni sono definiti di origine e altri di scopo. Molto semplicemente il sigillo o immagine di origine si ricollega a un'immagine strettamente connessa al pianeta o alla stella a cui appellarci per la realizzazione di un talismano. Mentre il sigillo di scopo intende definire un'immagine che non descrive la stella o il pianeta in sé ma una certa scena o la finalità di una certa operazione. Della porta si rifà a che cosa? All'opus imaginum dello Pseudo Tolomeo. È da precisare che questi autori non utilizzavano i talismani per operazioni preternaturali o sovradestinici infatti era convinzione generale che nulla potesse essere concesso se quella cosa non fosse promessa dalla propria natività. Oggi c'è l'idea del superuomo cioè che l'uomo può tutto basta realizzare un rituale o un talismano e puoi ottenere il mondo ai tuoi piedi. Ma l'idea che abbiamo invece dalla tradizione è un'altra i talismani sono usati quasi come oggetti terapeutici nel rispetto però di perimetri di limiti che sono dettati dalla natura dalle leggi naturali e per esempio appunto proprio nello pseudo nel nel centiloquio dello pseudo Tolomeo troviamo numerosi aforismi che precisano la centralità dei decreti di nascita e che nulla può essere concesso se non è promesso dal progetto genetiliaco questo ci dicono i testi poi possiamo essere d'accordo o meno o ritenere di avere un potere così forte da poter sovvertire anche gli ordini della natura cui io onestamente credo molto poco anzi so che è impossibile di conseguenza il talismano appare per questi autori come uno strumento di facilitazione di aiuto una sorta cioè di medicina celeste per potenziare le virtù benefiche già presenti però nella natività per rendere le cose meno insidiose in un certo senso il talismano lo potremmo quasi immaginare come ad un oggetto che ha lo scopo per esempio di diminuire un'infiammazione quindi è proprio intesa come una medicina che viene ovviamente realizzata tramite una ritualità un atto magico un atto dove c'è un uso delle immagini non c'è un uso di farmaci veri e propri il talismano non è dunque un oggetto per ottenere un miracolo dal cielo ma piuttosto per armonizzare o per riequilibrare non può prescindere dalle qualità della propria carta di nascita ritornando ai ragionamenti di Della Porta nel suo Magia Naturalis libro 4 l'alchimista dichiara di credere nelle ligature naturali ovvero nell'esistenza di una connessione tra alto e basso per esempio afferma che le pietre del sole e della luna attingono la loro virtù dai raggi solari e da quelli lunari afferma che la pietra selenite non soltanto va imitando la figura della luna ma imita il moto lunare perché quando ella la luna cammina e fa il suo corso fa anche gli spiriti lunatici la pietra selenite è stata sempre da sempre considerata pietra lunare ora non sono in grado di dirvi se la selenite concepita della porta è la stessa selenite che concepiamo noi oggi ma può anche essere che sia proprio la stessa è una pietra lunare perché ha un colore ha una lucentezza che rievoca la luna la motivazione è appunto proprio legata al colore e alla struttura che rievoca di molto la lucentezza della luna quindi questa pietra ha in sé i caratteri della luna e quindi se ci vado a incidere un'immagine un sigillo un simbolo un'immagine che rievoca alcune virtù della luna in un momento in cui la luna è messa nel cielo dell'evento in modo efficace e giusto io andrò a caricare ulteriormente quella pietra già di per sé lunare di ulteriori virtù lunari andandoli in qualche modo anche a specificarle in questo caso della porta suggerirebbe l'uso di una pietra lunare per esempio la selenite e di usare un'immagine di scopo quindi dalla luna possiamo chiedere un viaggio che sia propizio bene allora usiamo una pietra lunare usiamo un'immagine di scopo dove possiamo incidere l'immagine di una nave che prende il largo o di un viandante che fa un viaggio incidiamola su questa pietra in un momento opportuno dove insomma sono rispettate una serie di regole elettive una serie di condizioni anche della luna stessa a livello astronomico e astrologico ecco che quella pietra si in qualche modo prenderà le ulteriori virtù della luna andando anche a specificare lo scopo di quel oggetto fa anche altre affermazioni per esempio dice che la pietra chiamata elio seminon che non sono riuscito a capire che pietra è che pietra è mostra la congiunzione del sole e della luna dice ed essendo portata fa l'uomo partecipe della virtù dell'uno e dell'altro lui indica una pietra che avrebbe in sé la proprietà del novilunio cioè la proprietà della congiunzione di entrambi i luminari o che comunque è una pietra che porterebbe dentro di sé le virtù doppie in questo caso di due corpi di due astri sole e luna questa è un'affermazione della porta molto interessante perché è uno dei pochi ma ce ne sono anche altri che parlano di pietre con virtù doppie cioè non solamente di sole o luna o di giove e venere ma anche di uno o più pianeti che la stessa pietra in qualche modo esprime attraverso le sue nature le sue caratteristiche purtroppo non ho trovato niente su questa su questa pietra che che l'autore dice e che lui scrive proprio elio se mi non che non so appunto a che pietra si possa riferire quindi in questa breve trattazione che vado a concludere perché appunto lo scopo era quello proprio di darvi delle indicazioni generali la conclusione che io voglio darvi è intanto questo che potremmo affermare come sintesi che il talismano è un manufatto che intende concedere al portatore una serie di virtù e nature propiziatorie a differenza dell'amuleto il talismano deve essere preparato attraverso l'arte della simpatia tra alto e basso l'oggetto è realizzato con un metallo o su una pietra ma in realtà potrebbe essere anche realizzato su altri materiali esistono moltissimi testi medievali anche di autori arabi che propongono la realizzazione di talismani su corni di animale o su pelle di animale addirittura alcuni indicano cortecce quindi insomma l'incisione deve essere comunque fatta su un qualche oggetto naturale che è ricollegato al pianeta o alla stella di nostro interesse deve inoltre esserci l'incisione di un sigillo e di un'immagine che deve essere incisa in un momento preciso ovvero quando vogliamo catturare certe nature del cielo quindi dobbiamo anche avere una certa dimestichezza con l'astronomia e con lo studio della sfera locale con lo studio delle qualità delle luci del cielo e quindi si rende necessario anche appellarsi all'arte dell'astrologia elettiva deve esserci poi una serie di ritualità quindi ci sono una serie di cose da fare l'uso delle candele l'uso di certi colori uso di fumigazioni di incenso di erbe appropriate ma ci sono anche delle orazioni delle preghiere degli inni che si possono fare delle evocazioni che si possono fare al pianeta o alla stella o meglio al pianeta verso il quale noi desideriamo attrarre una certa natura e poi sicuramente non meno importante è indispensabile che il momento elettivo per la realizzazione del talisbano sia il più possibile in simpatia con i significatori della natività del portatore affinché tra oggetto e portatore ci sia ripetuta quasi una sorta di frattale all'infinito una natura una simpatia una reciprocità questo potenzia l'espressione poi degli effetti del talismano sempre in via a me teorica insomma perché poi dipende molto anche dalle esperienze e comunque è un qualche cosa di creativo quindi il talismano è una tecnologia oserei dire creativa nelle mani dell'astrologo questi sono i principi che io vi ho portato ovviamente ci sarebbe tanto altro da dire ma continuerò a farlo portando altre cose insomma ho fatto una ricerca degli studi al riguardo ormai che porto avanti da diversi anni e solamente negli ultimi tempi sto portando anche fuori queste ricerche per esempio sto ultimando la realizzazione di questo saggio dove c'è anche tanto altro oltre a quello che vi ho riportato dove però parto sempre dalle indicazioni da citazioni da ragionamenti di testi effettivamente della tradizione su cui poi semmai proporre un ragionamento anche rispetto al nesso storico di appartenenza dove tuttavia vi voglio già dire che le indicazioni che ci vengono tramandate non sono comunque obsolete cioè non è che quello che ci veniva quello che viene detto da della porta oggi non è riproducibile no anzi quello che dice della porta oggi è assolutamente praticabile e per esempio io trovo molto interessante questo autore perché propone proprio delle procedure gestibili però dotate di una certa conoscenza di una certa preparazione di una certa influenza appunto che deriva anche dalle conoscenze tradizionali ci rivedremo sicuramente in un continuo rispetto a questo argomento che vi ho quest'oggi presentato in questo video grazie e a presto